Il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano, in particolare delle aree verdi residuali di quelle occupate o abbandonate, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti per finalità pubbliche, ricucitura del tessuto urbano e sicurezza. Sono solo alcune delle esigenze a cui a Collegno vanno incontro gli interventi finanziati dal Bando Periferie e Riqualificazione Urbana, al cui coordinamento la città metropolitana di Torino ha dato un contributo fondamentale, affiancando l'amministrazione comunale. La consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico e alle attività produttive, ha voluto rendersi conto di persona di quanto è stato realizzato, visitando insieme al sindaco di Collegno Francesco Casciano le aree e i locali riqualificati grazie ai fondi del Bando Periferie, Fra gli interventi, realizzati nel Parco Generale della Chiesa a Collegno, figurano le aule assegnate alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Torino, che sono ubicati in un edificio dell'ex ospedale psichiatrico che un tempo ospitava laboratori in cui i ricoverati in grado di lavorare imparavano mestieri artigianali. Sonia Cambursano, consigliera metropolitana delegata alle attività produttive, allo sviluppo economico e sociale. Il ruolo di città metropolitana su operazioni come i bandi periferie è importante perché si tratta di coordinare la partecipazione a queste opportunità? Sì, come città metropolitana ci siamo assunti il ruolo di fare da collettori delle progettualità che il territorio esprimeva e abbiamo candidato queste progettualità inserendo all'interno di questo bando anche la regione Piemonte. Quindi città metropolitana fa ciò che mi permetto di dire sa fare meglio, mettere a disposizione dei suoi territori la professionalità e le risorse di cui dispone per poter contribuire allo sviluppo dei territori. Queste opportunità continueranno ad aprirsi nei prossimi anni, ci sono possibilità di portare ancora risorse sul territorio, non solo l'area metropolitana torinese ma tutto il territorio della città metropolitana? Già lo stiamo facendo perché ci sono altri bandi attualmente in corso, uno è Pinqua, sulla qualità dell'abitare che riguarda più nello specifico la conurbazione di Torino ma ci sono anche i progetti urbani integrati che invece hanno fatto atterrare sui territori delle risorse molto importanti per la rigenerazione urbana, l'housing sociale, la riqualificazione di spazi per la collettività. Grazie.